Un movimento di mercato che negli ultimi giorni è passato molto in sordina è l'acquisto da parte del Lecce di Tommaso Cassandro, terzino destro classe 2000, che i salentini hanno prelevato dal Cittadella. Quindi in questo video non vado a farvi una presentazione del calciatore, anche perché insomma giochi già in Italia, ha giocato appunto in Serie B, quindi in un campionato per noi importante, quindi insomma ho reputato abbastanza inutile farvi una presentazione. Ma allo stesso tempo voglio mettere degli accenti su questo acquisto e dirvi la mia sul perché secondo me il Lecce ha optato per un profilo come Cassandro. Ovviamente prima di andare a sviscere l'argomento vi do il mio bentornati o il mio ben muti sul canale a seconda che siate già o meno iscritti e bentornati nella casa del calcio dove l'unica fede che esiste qui è quella verso il calcio stesso. Inoltre mi raccomando seguite come sempre i miei progetti podcast Volti Nuovi e Storie di Calcio che potete trovare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer Soundcloud e seguitemi anche su TikTok perché lì magari vi metto delle pilole calcistiche che magari secondo me non sono meritevoli di un video lungo 8, 9, 10, 11 minuti. Ma torniamo a noi. Allora Tommaso Cassandro do un pochino per scontato che lo conosciate un po' tutti. Vi dico semplicemente delle caratteristiche generali. 185 cm, una buona capacità di corsa, un'ottima muscolatura soprattutto in arti inferiori, dei glutei ben sviluppati che comunque lì consentono anche quella rapidità, quello sprint sul breve. Quindi ovviamente glutei forti, gambe forti danno un quid in più al momento dello scatto. Di contro non ha una muscolatura così pesante da renderlo pachidermico. Però mi concentrerei appunto sul discorso del fisico, della statura a 185 cm. E il suo percorso a livello calcistico è stato molto interessante perché non dobbiamo considerarlo un terzino destro che è nato terzino destro. Lui ha fatto la trafetta di settore giovanile nel Bologna, a parte una breve parentesi al Novara. Per poi tornare al Bologna e poi passare al Cittadella. Ebbene, lui in questo periodo che ha passato a Bologna ha giocato in altri ruoli. Tranne quello che è appunto il terzino destro. Quindi come centrocampista centrale, come mediano e come difensore centrale in una difesa a 4. In primis come difensore centrale in una difesa a 4 al fisico. Comunque 185 cm sono veramente ottimi. Seconda cosa, al piede. Ha delle letture di gioco da terzino che non sono tipicamente da terzino. Tra un discorso dei movimenti offensivi. È un terzino che unendo appunto le caratteristiche che aveva da mediano, barra centrocampista centrale, e da terzino lo porta ad interpretare il ruolo un po' all'olandese. Quindi il classico terzino che, classico terzino olandese, che gioca, sa giocare anche molto stretto, che cerca la percussione centrale, che ha un istinto all'impostazione tipico di un centrocampista centrale. Quindi anche un piede educato, soprattutto nei cross. Non guardiamo le statistiche, perché soprattutto in B sono, secondo me, abbastanza parziali. Nel senso che tu puoi mettere 30 cross fatti bene a partita. Se poi magari però non hai degli attaccanti che te la buttano dentro, ovvio che le statistiche valgono il tempo, cioè rappresentano un qualcosa di abbastanza effimero, perché giustamente tu puoi fare delle belle giocate, ma se poi il tutto non è concretizzato, la bella giocata si va a perdere. Quindi io valuto il giocatore in base alle caratteristiche. Quindi ha un bel piede, ha delle belle visioni, sa giocare in profondità, sa trattare bene il pallone, ha un fisico, ripeto, comunque statuario, che rappresenta un concetto moderno di terzino, perché anni fa, vent'anni fa, andavano molti terzini, altri 1,73, 1,74, insomma, gli Usai, Mario Rui, sono un pochino, diciamo, delle eccezioni, e si vede che parecchie volte, soprattutto il Usai, va in difficoltà, ed è andato in difficoltà nel periodo di Napoli, quando magari va su uno contro uno, sulle palle alte. Ecco, un giocatore, che secondo me rappresenta più che altro un atleta. Quindi, bella corsa, tempo di inserimento, tempo di passaggio, un piede educato, ecco, secondo me è un qualcosa di molto interessante, reputo molto intelligente questa operazione da parte del Lecce. In più, c'è Baschirotto, che era stato preso per fare riserva di Gendrè, o Gendrèi, però comunque poi è stato utilizzato prettamente come difensore centrale, dove secondo me è la sua posizione naturale, e appunto a destra vi è soltanto Gendrèi. C'è un 79 cm per lui, a me onestamente non convince particolarmente, nel senso che è un buon giocatore, ma quando prende il pallone, non lo so, gli manca sempre il centesio per fare l'euro, nel senso, comunque non mi dà quella sicurezza. Ecco che prendere in quella posizione un Cassandro darebbe ulteriore fisicità, darebbe forza e darebbe corsa, soprattutto forza, che poi uniti agli altri uomini di difesa, quindi un Baschirotto, un untiti, e a sinistra io comunque ritengo il titolare, mi sta venendo in mente di Chiara, ma non di Chiara, ma è Gallo, Antonio Gallo, ecco rappresenterebbero due terzini diversi, che permetterebbero anche, eventualmente, di far sviluppare il movimento offensivo e difensivo in modo particolare, perché è vero, difesa 4, quindi ipotizzando Cassandro, Baschirotto, untiti, e Gallo, con un Gallo più votato alla proiezione offensiva, con un Cassandro un po' più a sostegno di quello che può essere la manovra, quindi al centrocampo, e in tal caso, eventualmente, bilanciare questa offensività di Gallo, impostando a 3. non escludo che potrebbe essere un qualcosa di fattibile, anzi, secondo me potrebbe essere uno sviluppo interessante, in questo modo, insomma, il centrocampo del Lecce andrebbe a 3, e scusate, andrebbe a 4, quindi, da il classico Juhlman, Juhlman, Blen, e chi più ne ha più ne metta, lì, nell'altro ruolo di Mezzala, magari un Gallo potrebbe dare una mano, appunto, al centrocampo, ma dal centrocampo in su, con le sue doti di offensive, e un Cassandro, che darebbe più una mano a sostegno, quindi, del Blen di turno, è di Gonzalez, mi stava scappando il nome, quindi, dare appunto, fare una sorta di, dare una sorta di fisicità ulteriore a un centrocampo, appunto, per bilanciare queste proiezioni offensive di Gallo, che io considero parente concettuale all'Azeri quando stava alla spalla, cioè, nel senso secondo me, Gallo potrebbe essere un uomo mercato, in estate, per squadre di media classifica, infatti io, parlando anche di Fusil Torino, l'avevo anche consigliato al Torino, insomma, un Gallo al Torino lo vede veramente benissimo, ma tornando a Cassandro, diciamo anche che a livello economico, l'operazione è stata molto favorevole, perché 250 mila euro subito, e 150 milioni di bonus, in base alle prestazioni del calciatore, quantomeno alle presenze, il contratto è fino al 30 giugno 2025, con un'opzione di prolungamento per altri due anni, e stiamo parlando sempre di un difensore, di un giocatore che è un classe 2000, quindi che quest'anno va a compiere 23 anni, e mi piacciono molto questi colpi, perché è giusto che giocatori che comunque mostrano delle doti interessanti, in Serie B abbiano possibilità di giocare in A, perché se vi ricordate del Piero e di Livio, provenivano dal Padova, Pessotto, la Juve, proveniva comunque da un Torino, non mi vengono in mente tanti altri, ma anche lo stesso Giaccherini, ha fatto insomma la scalata, ce ne stanno di questi giocatori, ma devono avere la possibilità, quindi, e soprattutto perché sono italiani, quindi piuttosto che prendere il classe 2000, tedesco o russo o finlandese o spagnolo di turno, che venga data un'opportunità a un giovane giocatore italiano, che ha dimostrato delle qualità molto interessanti in Serie B, e che a Lecce può fare il salto di qualità, e magari rappresentare il gatti della situazione, ecco, per fare un piccolo paragone, anche se ovviamente è più giovane Cassandro, molti magari ecco, già mi immagino qualche commento, dei tifosi del Torino che potrebbero scrivere, ok ma il Torino ha preso Baieie, perché tu non sei stato d'accordo con Baieie? Per un motivo, perché Baieie proveniva dalla C, quindi secondo me il salto CA, ti può riuscire una volta ogni 1000, due volte ogni 1000, invece un giocatore che già da anni gioca a MB, che è anche giovane, che ha dimostrato appunto cose interessanti, lo prendi e lo metti in A, gli dai un'opportunità ulteriore di sviluppo, secondo me potrebbe essere qualcosa veramente di tanto interessante, quindi a livello economico un ottimo investimento, ottimo investimento a livello d'età, come caratteristiche, caratteristiche del giocatore molto interessanti, quindi io penso anche che se poi l'ambientamento dovesse essere buono, scavalcherà Jean-André, come titolare a Lecce, fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa pensate, vi mando al bacione, e ciao al prossimo video, ciao ragazzi!